Eccoci qui in una puntata che si fa via via più spumeggiante, parola giusta non solo perché ci stiamo avvicinando al Natale ma anche per introdurre il nostro prossimo ospite che è Fabio Zardetto che è il proprietario dell'azienda agricola Tenuta San Mor, siamo al centro di Conegliano in una zona storica di produzione del prosecco. Buongiorno e benvenuto. Carissimo, buongiorno, grazie, sono contento di essere qui. Grazie, anche noi siamo contenti perché volevamo parlare di vino e di innovazione perché diciamo che il fenomeno prosecco è un fenomeno all'attenzione internazionale, tutti lo vogliono, tutti lo vogliono anche copiare ma noi qui abbiamo gli originali perché non si può neanche più parlare di prosecco ma di prosecchi in realtà essendo il territorio di produzione principalmente diviso tra la DOCG e le DOC. Esatto, 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 cominciamo già subito a fare dei distingui. Anche perché la DOCG diciamo nasce nel territorio più evocato, quello storico che è rappresentato dai due comuni principali che tutti conoscono, Conegliano e Valdobbiadene. Ecco, perché è così diverso il vino prodotto lì? Il territorio, la terra, i terreni, che cosa c'è di diverso? Beh, ovviamente chi è stato a visitare la nostra zona si è reso conto immediatamente che c'è una bella differenza tra le nostre colline senza voler nulla togliere la pianura però le colline hanno un fascino incredibile e ci regalano degli scorci che sono veramente indimenticabili. La viticultura lì inoltre ha un'origine antichissima, risale fino ai tempi dell'impero romano. Io direi che quasi quasi c'era anche la sua famiglia perché so che è una storia che si tramanda di generazione in generazione e un po' giustamente lei ne è orgoglioso di questo attraverso la storia anche della sua famiglia, piano piano è cresciuto intorno a Conegliano questo fenomeno. Sì, infatti ho avuto la fortuna di essere figlio di un padre molto famoso e che è stato uno dei precursori anche di coloro che hanno intuito che Prosecco sarebbe diventato quello che poi effettivamente è stato. E quindi tutto è nato dal momento in cui mio padre è nato proprio nella casetta a fianco alla scuola enologica, la famosa scuola che tanto ha dato vanto alla città di Conegliano. E continua per fortuna. Sì, continua per fortuna perché mio nonno che pure si occupava di viticoltura all'epoca era un tuttofare, molto amato all'interno della scuola, amato al punto che gli diedero proprio per vivere la casetta adiacente e lì nacque mio padre. Quindi gioco forza, gioco forza il destino. Siamo proprio all'interno della storia dell'enologia. Sì, quindi il nostro destino era già segnato fin dall'inizio. Assolutamente, ma io devo dire che lei ha raccolto un'eredità importante cercando di interpretarla molto bene, non solo perché nel frattempo il Prosecco è diventato appunto un caso internazionale, con tutto quello che ha voluto dire anche per le cantine che hanno dovuto mettere insieme anche sistemi di vendita su livello internazionale, ma anche perché lei sta lavorando molto anche nella continua innovazione. Certo. Innovazione che non è sempre guardare solo in avanti, è anche un po' guardare all'indietro. Ecco, questo è vero, infatti io sono un po' figlio di quella generazione di enologi che hanno portato avanti la tecnologia, hanno inventato le nuove tecniche di produzione del Prosecco spumante che hanno permesso, diciamo, alle cantine oggi di diffondere il prodotto a livello internazionale. Però dopo aver passato tutti questi anni alla ricerca dell'innovazione tecnologica, io, insieme a un gruppetto di altri enologi, abbiamo cominciato a guardare dentro di noi stessi se effettivamente questo è quello che volevamo, perché ricordando quello che era la storia dei nostri genitori, delle generazioni precedenti, in realtà il prodotto era diverso. Il prodotto aveva altre caratteristiche che erano molto, ma molto basate sul territorio dove i vigneti sono locati. E le colline proprio di Conegliano e Valdobbiadene hanno questa grande caratteristica. Quindi l'esaltazione proprio delle peculiarità e dei sapori collegati proprio ai profumi di questa terra, potremmo dire. Sì, sono molto belle queste iniziative anche che ci sono tra i piccoli produttori delle colline, per cui si passa di cantinetta in cantinetta in un certo periodo dell'anno, che è attorno a novembre appunto, per assaggiare le vasche dei vini nuovi appena fatti. E buona regola è quella di tenere le singole partite separate, per cui l'uva che viene da questo vigneto resta lì e non è ancora mescolata con l'uva di quest'altro. E assaggiandole così veramente si scoprono delle cose meravigliose, delle tremila sfaccettature che l'uva Prosecco dà, proprio legate alla collina, legate al terreno. Assolutamente. Poi alla fermentazione, all'utilizzo di lieviti o zuccheri, io so che lei sta sperimentando anche qualcosa di molto naturale da questo punto di vista. Sì, io credo molto nei prodotti naturali, nei prodotti biologici, non soltanto in termini legislativi, perché abbiamo comunque una legge che tutela il prodotto a marchio biologico, ma proprio inteso come amare la natura e consentire alla vita di dare la naturalità stessa del prodotto. Ecco, ogni tanto noi facciamo qualche incursione in zona Prosecco e troviamo spesso anche i consorzi, gli enti che tutelano ovviamente il marchio del Prosecco, impegnati in grandi dibattiti animati. In realtà la situazione è sempre molto frizzante dalle vostre parti, però questo sta servendo a trovare una linea comune anche proprio sulle cose che lei stava dicendo. Si ritrova un po' più di armonia anche da questo punto di vista? Ecco, io sono assolutamente convinto che questo sarà il nostro futuro. Noi dobbiamo percorrere questa strada perché non soltanto ci renderà concreti e visibili nei confronti del consumatore, ma in quanto il conegliano Valdobbiadene si presta a essere interpretato in questo modo, cioè un prodotto naturale, un prodotto genuino, un prodotto amato come frutto della terra. Non vorrei buttare una cosa eccessivamente in avanti, però che tutto il Prosecco di OCG diventi biologico potrebbe essere un'ambizione che la prossima generazione può portare avanti. Ecco, io glielo ho detto infatti perché uno dei dibattiti, una delle frontiere che ho visto vi vede molto impegnati, magari uno beve una bottiglia e non pensa a queste cose, è proprio la tutela del territorio e la tutela delle sue acque, quella tutela dall'inquinamento, anche della necessaria utilizzo di materiali che servono agli antiparassitari e cose di questo tipo. Questo è un argomento che vi tiene... Sì, è un argomento scottante. È una sfida molto importante, anche perché sappiamo che anche dal punto di vista climatico le ultime stagioni non hanno agevolato nessuno, neanche dal punto di vista parassitario. Sì, veramente queste ultime annate qui, diciamo le ultime 5-6 annate, sono state completamente atipiche. Primo perché le piogge sono state squilibrate rispetto alla maturazione e quindi diciamo gli agronomi hanno avuto il loro bel da fare per mantenere sana la vita. Tutto materiale di studio per gli enologi del territorio che avranno anche imparato qualcosa da questa sequenza così particolare. Sì, diciamo che non ci si annoia, ecco, proprio questo periodo qui richiede una grande attenzione e una grande voglia di fare. Sì, certo che però uno dei problemi che sono sorti proprio anche nella nostra zona è quello dei trattamenti antiparassitari, che chiaramente sono un argomento che deve trovare una soluzione e sono convinto che la troverà. Per quanto riguarda il mio piccolo, io sto cercando di fare degli esperimenti nei miei vigneti, di modo che si possa annullare completamente l'uso di antiparassitari, lavorando più proprio sul fatto che la vite ha delle caratteristiche intrinseche che le consentono, è un po' come per noi, insomma, se ci ammaliamo, prendiamo il raffreddoro e l'influenza perché qualcosa ci ha indeboliti. Ecco, ma questo dà sicuramente un valore aggiunto anche alle bottiglie. Noi siamo abituati, soprattutto in questo periodo, a fare i paragoni con lo champagne, che diciamo che è un prezzo decisamente diverso. Se poi uno va a vedere i crew di qualche annata particolare, ovviamente si sale così. Ecco, il territorio piccolo tra Conegliano e Valdobbiadene, ma molto produttivo da questo punto di vista, sta evidentemente cercando di fare un percorso che lo porti, non dico a livello dello champagne, però sicuramente questo è un vino che deve essere per forza di cose abbordabile rispetto allo champagne, però valorizzato soprattutto della DOCG. Sì, noi dobbiamo assolutamente dare più valore a quello che facciamo. Per prima cosa dobbiamo crederci, ecco che allora poi le cose prendono il loro verso. Per crederci dobbiamo essere anche sicuri di quelli che sono i passi da seguire. Ecco, io per esempio, l'esempio francese è calzapennello, perché io stesso sono andato a visitare molte aziende francesi nel passato. Si impara dai migliori, come sempre. Si impara dai migliori, ed è, mio padre mi diceva sempre, è l'unica cosa da fare. Cioè i francesi hanno affrontato questo problema più di cento anni fa. E chi ha girato per il Borgogne, per il Bordeaux o per il Champagne ha visto con quale attenzione vengono tenuti i vigneti e con quanta attenzione poi in cantina ogni singolo vigneto ha la sua storia. E le capita invece l'inverso, che vengono a trovarla dalla zona dello Champagne? Ma, dire la verità, io ho molti amici in quella zona, no? E ci siamo confrontati... Quindi c'è uno scambio. Molto, molto importanti, che io amo, tra l'altro tantissimo. E loro curiosi sono venuti a sentire il prosecco, no? E sono rimasti, non avrebbero mai pensato che con un prosecco si potessero fare... Delle spumatizzazioni. Delle spumatizzazioni così, no? E quindi ci siamo complimentati a vicenda, insomma. Ma infatti io credo che questa sia un po' una tendenza, un po' in tutti i settori, anche produttivi, quello di condividere informazioni, di mettere insieme, tutti insieme, le proprie eccellenze. Perché poi ogni territorio fa la sua storia e fa il suo vino. Ogni terreno sa esprimere poi cose diverse. Quindi quello non lo può togliere nessuno. È un marchio di fabbrica non esportabile, diciamo. Ecco, esatto, queste sono le cose che non sono copiabili, no? Per cui se tanto ci teniamo alla tutela di quello che possediamo, no? È proprio perché questo non può essere copiato. Assolutamente. Sì, sì. Ecco, voi siete alle prese con un doppio binario, l'abbiamo detto prima, con grandi zone di produzione per vini che sono DOC, che poi si trovano in tutto il mondo sostanzialmente, e vini che hanno invece delle necessità particolari. Le zone di produzione si chiamano rive, e si chiamano rive per un motivo, perché sono anche un po' impervi, e quindi anche è un tipo di lavoro che collega l'uomo alla terra. Questo legame è più forte nella DOCG. Sì, l'inserimento delle rive nel nuovo disciplinare delle DOCG è stato un grande passo. E proprio questo ci porta un po' più verso l'ottica francese, quello che i francesi chiamano cru. I francesi sono arrivati per i miei cru, a gran cru, eccetera. Noi per il momento le rive, direi che per il momento è sufficiente come piattaforma per lavorare. Ecco, chi va in cerca di un processo di qualità oggi può trovare in etichetta questa indicazione, per cui sa per certo che proviene esclusivamente da quella zona lì. Nel mio caso, per esempio, io produco un rive di Ogliano e un rive di Cozzuolo, che vediamo qui, che sono i due territori di Ogliano, che mi vede come zona dove sono nato, e Cozzuolo, dove ho l'azienda agricola, che è tutto sommato lì vicino. Ecco, vuole provare a descrivere queste zone a chi non le conosce? Beh, diciamo, sono delle zone... non ci sono parole abbastanza. Poi l'amore, il suo amore particolare per questa terra, sicuramente... sono zone splendide, come tutta questa zona. Sì, sono zone che invito tutti a venire a visitare, che meritano veramente di uscire un attimo dagli itinerari più conosciuti, per perdersi in queste colline, che hanno ancora delle caratteristiche di essere impervie, molto selvagge, e dove si vedono questi piccoli vignettini abbarbicati qui e lì, che risalgono stati piantati ancora da generazioni precedenti di contadini, ancora 60, 70 o anche 80 anni fa. Ecco, perché le vigne hanno veramente una lunga vita, e vengono... ci sono anche dei film bellissimi sulle strategie per cercare di far tenere in vita i vigneti più prestigiosi. Però, mi raccontava prima, avete dovuto riflettere anche su questo, cioè si è rischiato di perdere un patrimonio anche dal punto di vista proprio genetico, botanico? Sì, certo, perché un valore aggiunto, per esempio, di certi prodotti di gran classe sono quelli che derivano dai vigneti di viti vecchie. Allora, cosa hanno queste viti vecchie? Che l'uva ha un sapore diverso, il vino è più buono. Molto probabilmente parliamo di vitigni che esistevano appunto nel passato e che non sono il prosecco che viene piantato oggi, che invece è il risultato di selezioni fatte nei vivai, che quindi, diciamo, lo rende più... Ha mitigato alcuni aspetti, diciamo. Esatto, quindi la variabilità è un valore importante da riportare. Secondo lei, verso che prosecco stiamo andando, quindi? Un prosecco biologico che valorizza un po' di più questi tipi di vigneti. Che tipo di sapori esalterà? Beh, soprattutto sapori collegati al terreno, perché le nostre colline hanno delle origini che sono molto diverse tra fondale marino, il ghiacciaio del piave, oppure un frammisto di roccia, sassi, argilla, eccetera, e ognuna di loro è diversa. Queste viti vecchie risaltano in più le caratteristiche del terreno, sono più spontanee, più genuine, parlano di più di questa storia, piuttosto che i cloni moderni che invece sono più orientati magari alla produzione o a certe note floreali che magari piacciono molto del concetto moderno, però potrebbe essere, diciamo, quello che ci porta un po' fuori rispetto al patrimonio. Ma non dobbiamo dimenticare che queste viti vecchie sono sopravvissute a due guerre mondiali, sono sopravvissute a tutte queste generazioni, eccetera. Ma questo mi apre due capitoli, adesso devo decidere quale affrontare prima. Prima so che lei ha prodotto anche un vino dedicato alla prima guerra mondiale in occasione del centenario. Certo, che poi ha visto anche le nostre zone importanti, insomma, nelle battaglie. Assolutamente, siamo sulla prima linea, diciamo, della difesa del territorio italiano, quindi assolutamente... Per cui queste viti vecchie hanno dentro di loro qualcosa che le tutela, che le preserva dalle malattie. E' quello che le stavo dicendo, un po' come succede per gli uomini, ormai neanche se ci danno un antibiotico superpotente noi non riusciamo quasi più a sconfiggere le malattie autonomamente, diciamo così. Invece questi vigneti hanno sviluppato la capacità di farlo. Un po' come dovremmo fare un po' anche noi. Tenere da conto un po' della vita che facciamo. Adesso però, ecco, disabituare invece questi vigneti nuovi a questi trattamenti, come si fa? Beh, diciamo già in queste zone dell'alta collina i trattamenti sono di lunga inferiori già normalmente perché sono colline molto ventilate, piove di rado rispetto invece alla pienura, quindi non ci sono le nebbie. E poi appunto la presenza di queste viti vecchie che hanno una grande capacità di resistere. Ecco, il lavoro che stiamo facendo anche in collaborazione con il Consorzio di tutela di OCG è di preservare il patrimonio genetico di queste viti di modo che possa essere mantenuto anche per i posteri e chissà, trovare un sistema forse che... C'è una sperimentazione aperta anche con l'Università di Padova. Sì, infatti, è proprio un gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Veneto, tra Consorzio e Università di Padova che hanno lavorato in tutti questi anni per selezionare alcuni, noi li chiamiamo con questa parola così biotipi, che poi potrebbero diventare dei cloni anche da poi mettere a disposizione di altri. Perché no? Che vino si beve adesso in occasione delle feste? Quello di quest'anno, quello dell'anno scorso? Come matura un prosecco che possa stare su una tavola di festa? Sì, adesso è proprio il momento clou dell'anno perché le bollicine sono l'accompagnamento per le feste. Ecco, io presento adesso il vino dell'anno scorso e quindi, diciamo, è un 2014 perché questo vino, Viti di San Morda ha impiegato un anno per essere preparato uno spumante molto particolare che è senza zuccheri, aggiunti e anche senza solfiti. Proprio in virtù di questo discorso delle Viti Vecchie di cui parlavamo prima. E quindi nasce dalle Viti Vecchie senza zuccheri, senza solfiti e riesce a maturare il proprio processo di fermentazione? Sì, praticamente qui ho effettuato una fermentazione spontanea a partire da mosto per arrivare allo spumante in un unico passaggio senza fare la doppia fermentazione col vino. E il risultato? Il risultato è qui. Assomiglia? Eh beh, dobbiamo descriverlo perché non possiamo stopparlo. A quest'ora del mattino sarebbe un po' difficile diciamo anche da sostenere però non si sa mai. Va bene, allora ci proviamo un attimo. Ci proviamo un attimo. Proprio il lavoro senza zuccheri aggiunti ma usando solo i zuccheri naturali dell'uva io penso che sia uno dei modi ma apro una parentesi questo è stato un po' un esperimento per me e soltanto adesso dopo la distanza di un anno posso dire che tutto sommato ne va solo la pena e per quanto riguarda la vendemmia testa e fatta dal 2015 ho in preparazione quello per l'anno prossimo. Beh, certo. Ecco, questo si stacca un po' dalla vendemmia normale del produttore di prosecco che è sempre l'ultimo e sempre un po' quello fresco che viene qui ragionando un anno per l'altro è più simile un po' a francia corta come concetto. Senta, le dico un'ultima cosa perché ormai siamo in conclusione ci sono due partiti il legno oppure l'acciaio lei di che partito è? Beh, indubbiamente l'acciaio perché il prosecco ha bisogno di stare in acciaio però non dimentichiamo che una vinificazione in presenza di bucce come in questo caso ci aiuta a dare più struttura ed è quella che il prosecco ha bisogno di avere per potersi mantenere assolutamente allora ci sono appunto diverse tecniche che vengono utilizzate per la fermentazione poi anche il palato di chi poi va ad acquistare il prodotto che fa la differenza c'è chi preferisce l'uno c'è chi preferisce l'altro e dipende molto dai gusti io le ringrazio di essere venuto a trovarci questa mattina in bocca al lupo dicevamo che è un momento abbastanza vivace per la vita delle aziende agricole del Coneglianese in bocca al lupo perché speriamo che anche l'anno prossimo un doppio zero nella crescita mondiale delle vendite di prosecco ci sia ma io anche io la ringrazio e anche virtù di trasmissione come questa che per noi insomma è importante poter comunicare e presentarci insomma come esponenti del territorio comunicare il territorio e quindi non mi resta che invitare tutti i gentili spettatori a visitare la nostra zona la tenuta che è bellissima e stappare insieme qualche bottiglia assolutamente grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi in questa giornata arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti Grazie a tutti.